E' stata una giornata difficile perché non sapevo che gara aspettarmi dopo le prove, ma ho fatto tutto bene in gara e sono più che contento per il team, per me, per noi. Le gare sono molto difficili ed oggi abbiamo vinto per la prima volta, quindi sai, sono veramente contento. Beh, non sono riuscito a fare bene la chicane e dopo ho dovuto spingere molto ed ero molto veloci, ma penso che qui abbiamo fatto una buona strategia e ringrazio molto la squadra. Sì, sapevo che avrebbe usato il fan boost, ma non so cosa sia successo con lui, comunque alla fine della giornata posso dire che sono molto contento per il risultato. Grazie per la visione Grazie a tutti